Ciao a tutti amici di Popcorn e buon pomeriggio! Come state? Io sono Serena Maccialatte e vi porto come sempre una news croccantosa! Se vi dico il re dei supereroi a stelle e strisce, chi vi viene in mente? E se vi dico che questo re avrà presto un film dedicato alla sua vita? I fan lo desideravano da tempo e la 20th Century Fox non ha esitato ad accontentarli. Infatti la vita di Stan Lee approderà sul grande schermo. A quanto pare non sarà un classico biopic, ma bensì sarà un film in salsa action e avventurosa. Proprio come piace a Stan. Ancora non sappiamo chi sarà il protagonista, ma una fan art tempo fa ha ipotizzato Bryan Cranston che effettivamente sarebbe perfetto per questo ruolo. E voi cosa ne pensate? Chi vorreste vedere come protagonista? Vi piace Bryan? Ma a me piace un sacco, quindi sì, penso che lui potrebbe essere veramente adatto. Lasciate il commento qua sotto e mi raccomando visitate www.scriwick.it e scaricate l'applicazione se volete rimanere sempre aggiornati. Ciao!